Sì, a tua madre, questo è il più bel bambino del mondo. Guarda, Adriana, questo bambino diventerà certamente qualcuno. E tu crescevi bello, sano, forte. Vederti crescere ogni giorno era una cosa meravigliosa. E quando è arrivato il momento per te di diventare un uomo, di affrontare il mondo, l'hai fatto. Ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Non sei esistito più. Hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo. Sono cresciute le difficoltà, ti sei messo alla ricerca del colpevole. E l'hai trovato in un'ombra. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio, misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte. Perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Comunque io ti vorrò sempre bene, Robert. Non può essere altrimenti. Tu sei il mio figlio, sei il mio sangue. Sei la cosa migliore che ho al mondo. Ma finché non avrai fiducia in te stesso, la tua non sarà vita. E passa a salutar tua madre. E passa a salutar tua madre.